Adesso anche Cosenza ha una straordinaria collezione di opere di Umberto Boccioni curata da Fabio De Chirico, l'ex soprintendente per i beni storici ed artistici della Calabria, adesso impegnato in Umbria. La Galleria Nazionale di Palazzo Arnone si freggia dunque di straordinarie opere grafiche del maestro futurista nato a Reggio Calabria nel 1882. Si tratta di disegni eseguiti a matita, penna, china, pastelli colorati e acquerelli e di incisioni ad acqua forte e a punta secca. Le opere acquisite al patrimonio dello Stato provengono dalla galleria privata di Lydia Winston Malbin, importante collezionista americana. Finalmente a Cosenza ci sarà anche a disposizione dei cittadini ma dei visitatori che verranno un patrimonio, una risorsa così importante, come le opere di Boccioni che sono state così bene allestite. Devo dire che ringrazio molto i soprintendenti che hanno curato questi lavori e hanno offerto alla città la possibilità di avere a disposizione una risorsa così inestimabile che diventa un patrimonio della città. Abbiamo lavorato per tre anni a questa riproposizione della collezione di opere grafiche di Boccioni che il Ministero ha acquistato già per la Galleria Nazionale nel 1996 ma che comunque salvo una mostra a Rende e una mostra a Lugano non erano state mai viste dal pubblico, né dal pubblico calabrese né tantomeno dai pubblici internazionali. Nell'occasione è stata presentata anche la scultura a forme uniche della continuità nello spazio, donazione di Roberto Bilotti alla Galleria Nazionale. Si tratta di una replica di un'opera persa di Boccioni che peraltro per la sua importanza è rappresentata sulle nostre monete da 20 centesimi. Repliche simili esistono solo in copie limitate. Le dico solo alcuni nomi, il Museo Modern Art, il MoMA di New York e il Museo Nazionale di San Paolo del Brasile, il Metropolitan ancora New York, Chicago. Quindi vedere che Cosenza è una delle sedie espositive che in grado di avere opere di questo livello significa proiettarla in una dimensione internazionale.